Quello che occorre è una rivoluzione copernicana, cioè deve esserci una visione moderna e adeguata del ruolo maschile e della logica del rapporto tra uomo e donna. Una rivoluzione copernicana che tenga conto dell'emancipazione femminile, che è un dato insopprimibile e che ha determinato una sostanziale eguaglianza anche nelle condizioni economiche e sociali ormai tra uomo e donna e che all'interno delle famiglie ha determinato equilibri nuovi nel rapporto di genere. Dunque una esigenza di aggiornamento culturale che deve riguardare specialmente il genere maschile. L'iniziativa di oggi si annovera in questa logica, cioè ridare alla collettività quello che è stato tolto e riportare in una logica di utilità il provento di un illecito. Dunque consentire attraverso strutture adeguate alle donne di organizzarsi per resistere alle violenze di genere. Togliere alla criminalità per dare alla comunità, per dare in primis all'equità sociale, all'indipendenza economica, per dare a quelle donne che chiedono con forza un posto al sole nel lavoro o nella famiglia. Il progetto regionale Discrimination Free ha trovato fatti e risposte a Villa Castelli, dove un bene confiscato alla mafia si è trasformato in un centro antiviolenza e soprattutto nella sede di un progetto formativo che consentirà alle donne vittime di essere inserite nel settore della ristorazione. L'obiettivo è superare paletti, convenzioni, fornire alle donne un'indipendenza professionale ed economica capace pure di sconfiggere la violenza. Per una donna vittima di violenza, anche quando è pronta attraverso un percorso che ha seguito presso il nostro centro, di fatto però spesso non va via di casa, quindi non lascia la violenza perché non ha un'indipendenza economico-lavorativa. E quindi questa è un'occasione, data dalla regione Puglia, dall'ambito di Francavilla, di fare un percorso di formazione che le qualifichi come addette alla cucina di primo livello e quindi è un inserimento successivo nel mondo del lavoro. Un progetto da 150.000 euro che ha visto diversi soggetti fare rete. L'ambito sociale di Francavilla Fontana festeggia così un traguardo importante che a Villa Castelli rappresenta un primo step in una direzione ben precisa. Un risultato importante che portiamo a termine anche in questo momento particolare. Siamo abbastanza soddisfatti perché dà l'ostro alla nostra città, specialmente perché è basato sull'inclusione sociale. Un progetto di cui sono molto soddisfatto perché è un progetto integrante di altri progetti. Questo genererà altri step sul territorio in cui si avranno molti, ma molti benefici. È la prima esperienza che vuole neutralizzare la violenza di genere anche attraverso la prevenzione, quindi dando autonomia economica attraverso un corso di formazione finanziato dalla regione Puglia per le donne vittime di violenza, per dargli l'autonomia economica, per uscire dalla trappola della violenza di genere ma anche per prevenire questi fenomeni nelle mura domestiche, utilizzando, e questa è la particolarità del progetto, un bene confiscato anche alle mafie.